ragazzi salve a tutti ancora e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano stasera c'è già la live pronta quindi andate subito a mettere un bel like alla live con giovanni albanese che sarà da noi dopo essere passato su altri canali youtube tra cui anche quello di gianni bianco del buon giannino quindi un giovanni albanese che farà un tour de force stasera passando da tutti i canali gobbi che da qui ritiene opportuno passare e questo ci fa molto molto piacere parleremo di tante situazioni di calcio mercato e vi faremo spiegare nel dettaglio proprio da giovanni albanese quello che è stato di diverse trattative per quanto riguarda la juventus in entrata in uscita ma oggi in questo video vorrei affrontare un discorso più generico con voi e riguardo alla trattativa che porta kefren turam a vestire la maglia bianconera perché ormai ragazzi è un dato di fatto turam sarà il prossimo acquisto dell'era giuntoli dopo di gregorio era giunto di tiago motta scusate giunto dice la gialla juventus ma ha potuto operare ben poco l'anno scorso dopo di gregorio e daglas luiz arriverà ora a giorni o a ore l'ufficialità anche di di gregorio daglas luiz è arrivata nella giornata di ieri alle 14 e 29 precisamente mi pare non voglio andare errato ma il prossimo sarà proprio kefren turam poi per coop meiners e calafiori trattative in salita ma non abbandonate assolutamente quindi quindi per entrare in merito a questo discorso al discorso kefren turam ragazzi io vi invito come sempre iscrivervi al canale grazie intanto a tutti siamo arrivati a 12.000 le abbiamo anche superati di qualche iscritto una decina di iscritti sopra i 12.000 voi leggete solo 12 sempre 12.000 perché si aumenta il contatore si aggiorna scusate si aumenta si aggiorna ogni 100 iscritti sopra i 10.000 non è più come sotto i 10.000 che va ogni 10 iscritti no quindi voi lo vedete sempre fermo a 12.000 fino a che non arriveremo a 12.100 quindi fate fate presto ragazzi fate presto dovete far parte della famiglia del gobo toscano perché ora comincerà il campionato e quindi finisce il calcio mercato poi ci sarà il calcio giocato con tantissime novità tantissime ve l'ho detto da qui a settembre vi devo comunicare un paio di notizie veramente importanti e una di queste è emblematica perché porterà un cambiamento importantissimo a me alla mia famiglia e scusate il gatto che mi porta via le cose da casa e soprattutto a voi al canale a voi ovviamente non cambierà niente dal punto di vista di interazione anzi sicuramente avrete molti più contenuti rispetto ad oggi e direte madonna ancora di più sai che palle il gobo toscano tutti i giorni intermerda tra l'altro mi ha scritto che vede più me di sua moglie quindi non voglio essere causa io di disguidi familiari e di discussioni quindi ragazzi prima pensate alla famiglia le vostre cose poi se vi fa piacere passate un po di tempo col gobo toscano intanto vedete il gatto che si sta arrampicando sulle sedie sta facendo di tutto e di più però ci piace così perché ripeto cosa fondamentale del canale ci contraddistingue noi e il canale di qualcun altro alla massa è che siamo umili rimaniamo sempre noi come ci trovate qui in video ci trovate anche fuori e tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscermi di persona ve lo possono confermare allora per quanto riguarda il discorso di Kefren Turam la trattativa di Kefren Turam vi sareste mai aspettati voi che Turam arrivava alla Juventus fondamentalmente in uno scambio con Ken quasi alla pari e voi mi dite ma che stai a dire Ken va alla Fiorentina per 13 milioni più 12 milioni più 3 di bonus più altri 13 milioni scusate più 2 di bonus facili più altri 3 difficili o roba del genere quindi 15 milioni quasi certi e quindi cosa c'entra un Kefren Turam? C'entra perché con la cessione di Ken vai a finanziare il colpo Kefren Turam la Juventus è riuscita ad abbassare di molto le pretese dei 30 milioni iniziali del Nizza su cui comunque Giuntoli aveva messo lì il sassolino e aveva fermato il foglio col sassolino da fermacarta per dire il giocatore vuole noi e noi vogliamo il giocatore in un modo o nell'altro quindi volete 30? Noi a 30 ci possiamo stare poi ovviamente le vicissitudini nella non convocazione nella nazionale francese un po' di problemi economici anche da parte del Nizza hanno portato la Juventus a scendere con l'offerta e il Nizza inizialmente aveva titubato ma poi la volontà di Kefren Turam di vestire la maglia bianconera e sposare appieno il progetto bianconero ha fatto il suo gioco ragazzi ha fatto il suo gioco quindi fondamentalmente è come uno scambio alla pari cioè immaginatevi voi datevi a un bidone come Ken e scusatemi ma lo devo dire nonostante l'untore dica che siamo noi delle capre perché Ken è un giocatore di tutto rispetto l'untore secondo me il calcio ne ha visto e ne vede molto poco lui gli piace fare polemica su cose addirittura che non lo riguardano lui entra nelle polemiche delle altre squadre così tanto per così perché lui è la bocca della verità e quindi voi dovete pendere dalle sue labbre dalle sue parole ma detto questo ognuno nella vita è libero di fare quel che vuole lui può continuare a far così noi continuiamo a fare diversamente e voi seguite giustamente chi vi rispecchia di più chi vi rispecchia di più e chi vi fa stare diciamo meglio dal punto di vista dell'intrattenimento detto questo detto questo questa trattativa è fondamentale perché porti via un bidone come Ken ritorno a dire e ti arriva un giocatore di valore assoluto come Kefren Turam che può solo che migliorare nella sua età nel suo fisico ancora ci sono tanti anni almeno 10 in cui il giocatore può fare almeno 8 dai stiamo più bassi in cui può fare la differenza in qualsiasi competizione in qualsiasi squadra Kefren Turam è un giocatore di un centrocampista completo può fare tutto fase difensiva fase offensiva rifinitura smistare palloni recuperare palloni e quello è bravissimo in quello ha delle leve spaventose un metro e 92 in mezzo al campo tanta potenza di fuoco quindi aerea sia in fase difensiva che in fase offensiva cosa vogliamo di più ragazzi nulla nulla basta cioè dobbiamo ammetterlo giunto lì ha fatto l'ennesimo capolavoro Ken per Turam c'è uno scambio fondamentalmente con le squadre che non sono le stesse da una parte c'è inizia da una parte la juve dall'altra la fiorentina ma in un triangolo clamoroso cioè senza tirar fuori fondamentalmente più di 3 milioni si aggiudica Turam e manda via Moise Ken tra l'altro in questo scambio virtuale c'è anche una riduzione dell'ingaggio perché Kevin Turam dovrebbe arrivare a prendere sui 2 milioni di base fissa al massimo con qualche bonus può arrivare sui 2 milioni e mezzo prende comunque un milione meno un milione un milione e mezzo meno di Moise Ken alla Juventus quindi altro colpo di genio di giunto le abbassiamo il monte ingaggi non tiriamo fuori i soldi siamo veramente una squadra che in questo momento mi sta facendo sognare semplicemente per la programmazione per come va a mettere a segno i colpi quindi possiamo parlarne per ore per giorni ma Giuntoli sta facendo tornare grande la Juventus sta facendo un capolavoro nonostante gli introiti limitati della stagione scorsa le penalizzazioni cosa sta facendo Giuntoli sta ricavando tutti quei soldi che potenzialmente erano nelle casse della Juventus ma non venivano utilizzati cioè giocatori non utilizzati da Massimiliano Allegri rimanevano lì a perdere valutazione Giuntoli è stato bravissimo a identificarne i punti chiave per sbloccare determinate trattative quindi sta facendo un mega 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 lavoro questo fa capire cosa ha in mente la Juventus per i prossimi anni quindi ragazzi arrivati a questo punto del calciomercato io dico solo bravo Cristiano Giuntoli brava Juventus a credere in Giuntoli brava Juventus a dare carta bianca a Giuntoli speriamo che sia l'anno buono non vi dico di non vi nascondo che con una squadra del genere come sta venendo su non si può dire no quest'anno puntiamo solo a entrare in Champions League quest'anno si punta a vincere non c'è storia c'è un allenatore di tutto rispetto c'è una squadra che sta diventando una squadra di tutto rispetto forse anche troppo nell'immediato perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato a vedere gli anni scorsi e quindi basta oggi è obbligatorio andare a provare a vincere se poi non vinci lottando fino all'ultimo punto su punto ci sta però non devi fare gli scivoloni dell'anno scorso e soprattutto devi puntare a raccimolare ancora più soldi dalla competizione che andrai a affrontare quindi Champions League mondiale per club cercare di arrivare fino in fondo alla Coppa Italia a provare a vincere la Supercoppa italiana devi cercare di portare a casa trofei e soldi detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questo ragionamento che vi ho fatto su Ken via dentro Turam uno scambio alla pari praticamente iscrivetevi al canale lasciate un mi piace condividete il video attivate la campanella delle notifiche stasera tutti live alle ore 21 e 30 mi raccomando chi non c'è è un prescritto fino alla fine Forza Juve e fino alla fine Gobbo Toscano ciao